Samir La Keb, vogliamo iniziare con una battuta, innanzitutto da Parigi a Campobasso ce ne passa, insomma come ti trovi qui? Per ora bene, i ragazzi mi hanno accolto bene, a parte il tempo che è un po' freddino, però diciamo che mi trovo bene per ora. Senti, nella tua carriera ci sono tanti rimpianti dovuti a un grave infortunio che hai subito, rimpianti ma anche soddisfazioni perché sei stato nella primavera dell'Inter? Sì, sì giusto, diciamo che ho avuto diversi infortuni che mi hanno un po' penalizzato, che hanno un po' rallentato la mia progressione calcistica, però non mi sono mai buttato giù, ho sempre alzato la testa e sono sempre andato avanti. E una grande esperienza in Umbria con la maglia della Ternana, laddove hai conosciuto appunto proprio Giorgio Di Vicino, hai giocato se non erro cinque stagioni con la Ternana? Sì, sì, ho fatto diverse stagioni, ho conosciuto Giorgio nei primi anni e niente. E adesso eri praticamente senza squadra? Sì, adesso ero svincolato, non mi ha rinnovato il contratto alla Ternana, sono stato pure ad Aprilia dove ho fatto bene e niente, sono rimasto svincolato con qualche proposta a destra e sinistra in Serie D, Serie C, però diciamo che ho preferito aspettare per cogliere l'occasione giusta. Ecco, Campobasso quindi la definisci l'occasione giusta, malgrado ci sia da lavorare moltissimo, basta guardare la classifica per farsi un'idea del lavoro che tocca fare qui per risollevare la squadra dai bassi fondi? Certo, io sono venuto a Campobasso grazie al direttore Ciccone, conoscevo un po' di gente, Giorgio Di Vicino, Mirko Peglierini, allenatore in seconda. Diciamo che l'obiettivo che mi hanno dato è stato apprezzato molto, nel senso che mi dovevo rimettere in gioco, in una squadra che era comunque una buona squadra, abbiamo avuto dei problemi con gli under, però bene o male stiamo tirando fuori la testa piano piano. E' comunque una scommessa che ho fatto io con il direttore, quindi per ora mi trovo bene, spero fare tanti gol e tante belle prestazioni. A cominciare da domenica dove si vocifera, sono voci, partirai titolare? Non lo so, io mi metto a disposizione dall'allenatore, decidere a lui, sicuramente farà la decisione giusta per la squadra soprattutto, che deve pensare prima di tutto al Campobasso calcio e non a Samir o a altri. Ruolo esterno d'attacco, possiamo fare una stima dei minuti nelle gambe? Lo avevamo chiesto anche a Di Vicino. Credo che un tempo ce l'abbia nelle gambe, non a ritmi molto alti, però credo che con un minimo di esperienza, un minimo di testa possa rimanere in campo almeno per un tempo.